il maestro se vuole fare un saluto a tutti gli appassionati anche al pubblico italiano io amo molto Italia vorrei ricordare anche gli italiani le tradizioni marziali d'Italia, soprattutto l'antica Roma in tutto il mondo si studia il diritto romano e anche le tradizioni marziali di Roma quando nel resto del mondo non c'era ancora niente nel territorio italiano c'era già lo Stato e già faceva la guerra e esistevano anche le tradizioni marziali italiane e mi sembrava che fare qualcosa di strano alla propria origine e un po' andare sotto la propria dignità perché loro stessi erano protagonisti di questa tradizione in Europa e l'esercito era il numero uno al mondo dire al maestro che noi italiani siamo molto appassionati di questi sport infatti organizziamo questi grandi festival e invitiamo i migliori maestri per approfondire e conoscere e per migliorare e per migliorare grazie grazie